Qui con Pippo Pescioli che purtroppo deve consegnare questa finale ai Rossi, con una partita dura, ben giocata e soltanto nell'ultimo quarto è venuta fuori un po' la supremazia dell'avversario. Partita bella nel primo tempo, bruttina nel secondo, tantissimi falli, l'intensità fisica dei Rossi ci ha fatto male. Con lo scorso anno in finale, peccato, peccato perché domenica mi sarebbe tanto piaciuto essere su questo campo, in questa atmosfera meravigliosa, sarà per il prossimo anno. Ecco l'ha coppiata Udom, però ha retto bene il campo, anche Kerici un po' su di giri nel finale ma perché ci sentiva, è stata vissuta bene a tutta la squadra comunque la partita. Ma sicuramente la voglia di esserci e la voglia di vincere forse ha privato, un pizzico nervosismo nel finale ma finisce tutto qui, sono tutti già baci e abbracci anche con gli arbitri. Sì, Udom, anche Liam, il giocatore più giovane sicuramente nell'All-Star Game, ha fatto vedere due o tre cose veramente notevoli, peccato, però complimenti ai Rossi che ormai sono diventati la carta da battere dell'All-Star Game in Fiorentino. Grazie.